All'Ecma non solo moto e scooter ma anche spazio alle biciclette come è questa con la pedalata elettrica assistita. Noi siamo stati i primi nel settore italiano a credere nell'elettrico. Però rimane un blocco di appassionati che usano le biciclette senza motori elettrici. Quello è lo zoccolo duro, quello che porta avanti il mercato, sono sempre loro che però dopo non disdegnano l'utilizzo dell'elettrica. Dalle biciclette alle moto con un'eccellenza del Made in Italy. MV Augusta è soprattutto passione, passione per la tecnica. La F3 800 Eurair è una moto che è stata progettata, ingegnerizzata e industrializzata specificamente per affrontare i nuovi regolamenti del Supersport Mondiale. MV Augusta è impegnata anche nell'enduro con il nuovo progetto Lucky Explorer.